Ciao a tutti e ben trovati in questo nuovo video. Abbiamo lasciato la pittoresca Marzamemi e ci siamo diretti a Porto Empedocle, all'area sosta Punta Piccola Park. Da qui con lo scooter in una ventina di minuti si raggiunge l'ingresso del parco archeologico Valle dei Tempi, che custodisce il patrimonio monumentale di Akragas, una delle colonie greche più portanti del Mediterraneo. Ovviamente abbiamo preso una visita guidata che con 20 euro a persona più il costo di ingresso al parco ci ha intrattenuto fino al tramonto. La città di Akragas, fondata dai geloi nel 580 a.C., si dota fin dalla nascita di un'imponente cinta muraria. Dalla fine del VI secolo a.C., quando viene retto il Tempio di Ercole, iniziano i lavori di costruzione degli imponenti templi dorici. Nel 406 a.C. arrivarono invece i cartaginesi, che distrussero completamente la città. Solo nel 210 a.C. fu il tempo dei romani, che conquistarono la città e le diedero il nome di Agrigentum. Stucco originale. E stiamo parlando di ben 2005 anni fa. Questo era un mezzo capitello, con questo si capisce le dimensioni di questo Tempio. Si conclude così, all'imbrunire la nostra visita alla Valle dei Templi, ma restate con noi, perché il sole cala, ma i templi si illuminano. Grazie a tutti. E l'indomani ci siamo dedicati ad un'altra perla della zona, la Scala dei Turchi. E questa è la scalinata per la Scala dei Turchi. E questa è la scalinata per la Scala dei Turchi. E con questo bel tramonto sulla Scala dei Turchi, vi salutiamo, ma restate con noi, domattina si parte per Trapani. E questa è la scala dei Turchi. È una scala dei Turchi. Grazie a tutti.